Il Sistema Sanitario Nazionale spende 3.300 euro ogni anno per un paziente diabetico, due volte e mezzo in più rispetto agli altri. Pazienti diabetici che tra l'altro sono in continuo aumento in tutte le fasce d'età. Solo in Veneto sono 20.000 i casi clinici, 6.000 i ragazzi diabetici tra i 15 e i 30 anni. Ogni tre giorni nella nostra regione un bambino si ammala di diabete di tipo 1 e in media un bambino su 10 è figlio di migranti, forse influenzati dalle diverse condizioni igieniche. Sono i dati emersi dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia in corso a Padova assieme a molte altre novità e statistiche, come l'ipotesi che la malattia accompaglie più precocemente e che dipenda soprattutto per i bambini dall'obesità, ma anche dall'aumentata età della mamma al momento del parto e dal peso del bambino al momento della nascita. Mentre un tempo i cliché del bambino era un bambino non obeso, magro, eccetera, anche nell'adolescenza si può instaurare un diabete che è tipico dell'adulto perché lei sa che nei bambini ormai l'obesità rappresenta il 10-15% o perlomeno il sovrappeso e quindi il sovrappeso, le abitudini di vita, la sedentarietà, lo stare troppo davanti alla televisione e non giocare a calcio dei nostri figli, ma oggi nipoti, può portare una maggiore predisposizione a quel diabete che un tempo compariva solo nell'adulto. È importante il peso e la nascita del bambino. Fino a qualche tempo fa si stressava il concetto della macrosomia, cioè se i bambini pesavano più di 4 kg erano più predisposti poi a sviluppare il diabete. Oggi anche la microsomia, cioè un peso inferiore a 2,7-2,5 kg, espone questi bambini al rischio di diabete. Molte le novità anche nel campo della diagnostica e della cura della malattia per i malati di diabete che consumano tre volte in più di farmaci dovute alla complicanza della malattia, soprattutto quelle cardiovascolari, tanto che il diabete in Italia rappresenta il 15% dei costi dell'assistenza sanitaria nazionale.